Uno sciatore è stato travolto da una valanga mentre sciava fuori pista. È accaduto oggi, domenica 4 marzo, nel primo pomeriggio. Il giovane sciatore, un torinese di 36 anni, si trovava con un amico snowboarder nel comprensorio sciistico di Pian Beno di Usseglio. Pare che i due avessero optato per un fuori pista, quando improvvisamente una valanga li ha investiti. L'intervento della squadra del soccorso alpino più note è stato immediato, perché i tecnici erano già in luogo. Lo snowboarder è riuscito a uscire autonomamente dalla massa nervosa, mentre la localizzazione e le istruzioni dell'usciatore sono avvenuti rapidamente e poi che spuntava dalla neve in uscita. Tuttavia le condizioni del travolto sono finite a farse grave. Il tecnici hanno immediatamente avviato le procedure di rinnovazione. Nel frattempo arriva con l'autore dell'ambulanza di base a Torino, l'autore che finedica ha preso un carico ferito e l'ha condotto all'ospedale CTO di Torino. Grazie a tutti.